Benvenuti, oggi vedremo la terza puntata della nostra serie tedesca sulle grandi amanti della storia. La protagonista è Madame de Montespan, che fu una delle amanti del re Sole, Luigi XIV. Siamo quindi nella Francia del Seicento. Luigi XIV era salito al trono da bambino e ha regnato per 72 anni, uno dei regni più lunghi della storia. In tutta questa lunga vita Luigi ha avuto una sola moglie ufficiale, una sola regina, Maria Teresa di Spagna, e gli ha dato sei figli. Poi ha avuto circa 15 amanti e favorite che gli hanno dato altri 16 figli. Ecco, per noi oggi è difficile capire come faceva a stare questa vita sentimentale e sessuale così intensa all'interno di giornate come quelle del re, che si svolgevano interamente in pubblico. Il re era sempre circondato da una folla di gente, cortigiani, servitori, guardie, che non gli staccavano gli occhi di dosso. E per di più il suo tempo era regolamentato dal protocollo, in modo minuzioso. Nelle nostre fiction di oggi sembra sempre che i re del passato non avessero niente da fare se non passeggiare nei giardini. In realtà non avevano un attimo libero. Già quando si svegliava a suon di musica, il re Sole trovava la camera piena di gente, i musicisti e poi i cortigiani. C'era quello che gli doveva porgere l'acqua per lavarsi, quello che gli dava la camicia, quello che gli dava la parrucca. E quando pranzava, il re pranzava da solo a suon di musica, in mezzo a un nugolo di servitori e di cortigiani che assistevano. E poi c'erano i riti religiosi, perché quella era pur sempre la corte del re cristianissimo, per cui appena il re si svegliava arrivava un ciambellano con l'acqua benedetta e il re diceva una preghiera. E poi appena vestito si inginocchiava e ne diceva un'altra e comunicava l'ora in cui voleva assistere alla messa, perché il re andava a messa ogni giorno e certi giorni anche più di una. È stato calcolato che nell'arco della sua vita il re Sole ha assistito a qualcosa come 30.000 messe. Finalmente al momento di andare a dormire, sempre a suon di musica, veniva accompagnato al letto da una folla di cortigiani. Quando tirava le cortine tutti sapevano chi c'era dentro. E anche dopo restava gente nella stanza a dormire lì e altri passavano, perché i palazzi dell'epoca non avevano i corridoi. Le stanze erano un'infilata una dopo l'altra, la gente passava e il concetto di privacy non esisteva proprio. Ecco, e noi ci chiediamo come facevano a trovare un posto per l'amore, le scenate, i litigi, la gelosia, le coccole, il sesso. Come facevano? Uno va a vedere. Certamente il re non avrà portato le sue amanti a letto durante la notte in mezzo ai cortigiani, ma nel protocollo ci sono alcuni piccoli spazi liberi in cui il re poteva decidere con chi voleva stare. Le chiamavano le ore rompute, le ore spezzate, come diremmo i ritagli di tempo. Ecco, probabilmente il re approfittava dei ritagli di tempo per stare con le sue amanti e magari anche per fare una carezza ai bambini. Sarebbe bellissimo riuscire a rappresentare tutto questo oggi. Ci porterebbe in un mondo di fiaba e di incubo. Sarebbe bellissimo, però è impossibile. Hai un bel girare a Versailles, dovresti avere centinaia di comparse in costume e dovresti insegnargli a muoversi e a parlare secondo le regole di un'etichetta che anche loro all'epoca impiegavano anni per imparare. Non si può. E così nelle nostre fiction vediamo sparuti gruppetti di comparse che si aggirano e tentano sì di imitare i modi dei nobili di una volta. In realtà poi alla fine parlano e si muovono come facciamo noi oggi. E pazienza. In ogni caso la storia del re sole e di Madame de Montespan e di Madame de Maintenon, che a un certo punto ha preso il suo posto nel letto del re ed è anche riuscita a farsi sposare in segreto, rimane una grande storia e vale comunque la pena di raccontarla. Buona visione. La storia del reto è stata un'etichetta di un'etichetta di un'etichetta di un'etichetta di un'etichetta di un'etichetta. Il regno di Luigi XIV è di una poesia e bellezza senza tempo. Le magiche nebbie che avvolgono i castelli e i parchi del re sole nascondono un mondo nel quale si combattono spietate guerre d'amore e di potere. È questo l'antico gioco di seduzione e piacere, passione e tradimento, che si conduce nelle corti, secondo regole che oggi ci risultano distanti e bizzarre. Il cerimoniale per il quale Luigi XIV è famoso ha un significato politico ed è tutt'altro che pure apparenza o forma di intrattenimento per una frivola nobiltà. Questo cerimoniale serve a rendere visibile potere, dominio e posizione sociale. Tutto inizia con il valletto che sveglia il re. Poi il gran ciambellano apre la cortina e alla fine il re esce lentamente dal letto e viene vestito. Quanto più presto al mattino un cortigiano viene presentato al re e quanto più può avvicinarsi a lui, tanto maggiore è la sua influenza. È in questo modo che ogni giorno si assegna a ciascuno il proprio posto nei più alti gradini della scala sociale della Francia. I duchi, i generali e i ministri, le principesse, le cortigiane e le amanti. Chi può paragonarsi a me? Françoise Atenaïs de Montespano. Nessuna famiglia è di nobiltà più antica della mia. Non c'è amante in Francia che possa essere al mio livello, se non sua mesta stessa. Il gran maestro gli porge la manica sinistra, il maestro del guardaroba la destra e il gran è una coreografia di un balletto, nel quale è assegnato un gesto ad ogni carica, la cui vicinanza al re ne determina l'importanza. Perfetto, vi ringrazio. Il re stamane è di buon umore. La regina controlla gelosa che nessuna bella donna possa suscitare nel suo consorte pensieri che non mi lascivi. E nonostante ciò, mi separa un solo piccolo passo dal letto di Luigi. Così va meglio. Per la mia ascesa devo ringraziare la donna che è più importante addirittura della regina. Louise de la Vallière, la sua amante, ha chiesto al re di farmi diventare una cortigiana. Luigi non riesce a negarle nulla. Louise è lei la donna più invidiata di tutta la Francia. Mademoiselle, fatevi avanti. Ma la domanda interessante è, come si diventa ufficialmente l'amante del re? Succede nel giorno in cui il re non tiene più nascosta al pubblico la relazione. Ciò significa che il re ne è così orgoglioso da renderla nota a tutti. Per ottenere questo ruolo di prestigio bisognava essere belle, anche se alla lunga non era sufficiente. Bisognava essere intelligenti, in particolar modo nel caso di Luigi XIV. Odiava le donne stupide e si annoiava subito in loro compagnia. Bisognava saper sostenere una conversazione, essere spiritose e colte. Luigi XIV, il re sole, è il sovrano più famoso della storia francese. La sua corte lussuosa è ammirata e invidiata in tutta Europa. Luigi XIV ha un debole per il gentil sesso. Il numero delle sue tresche è leggendario, ma una semplice avventura non fa di una cortigiana l'amante del re. Non importa con chi passa la notte il re, ciò che conta è a chi il re rivolge le sue attenzioni quando al mattino si alza dal letto. Luigi voleva avere sempre a sua disposizione la sua amante. Ciò comportava che ci fossero continue lotte, perché la cortigiana che entrava nel favore del re ovviamente era esposta alle crudeli gelosie di tutte le altre che sognavano di sottrarle il ruolo. Condividere il letto con il re significava prestigio, ricchezza e fama. È una posizione invidiabile e nello stesso momento molto scomoda. Le donne vi si aggrappano finché possono, come nel caso di Louise de la Vallière, che fu la prima amante di Luigi XIV. Tra l'altro risulta la più simpatica, considerato che amava davvero il suo re. Louise de la Vallière è una bellezza naturale, un'eccellente cavallerizza e cacciatrice. Odia i fasti e i complicati riti di corte, non partecipa al gioco degli intrighi e non si approfitta della benevolenza del re. La mia cara amica Louise ora ha due problemi. È ardentemente innamorata del re, ma viene ricambiata in modo tiepido. E poi crede che io sia la sua migliore amica. A quanto pare la regina vuole impressionare il re indossando delle scarpe alte. Peccato che in Spagna non le abbiano mostrato come portarle. Temo sempre che il re possa annoiarsi con me. Voi sapreste come farlo ridere. Il re non ha occhi per me. Beh, io sono sempre accanto alla regina e lui non la guarda neanche. Ho appena sentito dalla lingua più lunga della corte che tra i miei sudditi gira voce che voi siete la donna più bella di Francia. Se ciò fosse vero, mio signore, non sareste in obbligo verso i vostri cittadini di amare questa donna? La vostra risposta tradisce spirito, ma poca decenza. Ho una sola richiesta per il buon Dio. Fa di me un essere umano decente, ma non rendermi mai una donna decente. La capacità che il re apprezzava maggiormente in Madame de Montespan era quella di saperlo intrattenere in maniera intelligente e sottilmente sarcastica, con spirito ironico e un'arte della conversazione per la quale la famiglia de Montespan era famosa. Si definiva Esprimort Mar questa forma di fine umorismo, di cui il re stesso, fatto non trascurabile, era ben poco dotato. Lei lo avvolgeva con la sua civetteria. Per essere precisi, fingeva di fargli delle avance per poi tirarsi indietro e giocava con lui il più a lungo possibile, senza concedersi mai. Luigi XIV stette al gioco e ci prese gusto e diceva «Lei vorrebbe che io l'amassi». Meraviglioso come usa questo congiuntivo il perfetto, ma non so se io lo voglio. Ma alla fine lei raggiunse il suo scopo. La Montespan non è soltanto una donna seducente, ma è adatta al ruolo di status symbol. La sua ascesa a corte è parallela a quella della Francia come maggior potenza ed esempio culturale dell'intera Europa. Il re realizza l'edificio più monumentale del XVII secolo, Versailles. Versailles ha la stessa funzione di un teatro. È il luogo in cui la monarchia si presenta al popolo e ai visitatori stranieri. Il re è lui il regista di tutta quella messa in scena che deve rappresentare il suo potere sulla Francia e soprattutto sulla sua nobiltà. In qualità di regista presta particolare attenzione ad ogni piccolo gesto del suo comportamento e ogni dettaglio della sua quotidianità viene costruito in modo tale da esprimere la sua maestà. Luigi XIV fa di tutta la Francia il suo palcoscenico. Lui impone il suo volere anche sui fiumi e sugli alberi come sulle persone. Qualsiasi deviazione dalla rigida simmetria dell'ordine reale è considerata un reato contro la maestà. Nella posa sfolgorante del re sole Luigi XIV dirige la sua corte. Già da tempo il re desidera la Montespan ma non vuole rinunciare a Louise de la Valleire la sua amante ufficiale. Tutti devono ricoprire i ruoli che sua maestà assegna loro. Luigi XIV aveva tante donne intorno a sé un comportamento insolito per noi è come se avesse instaurato una forma di poligamia reale non prova imbarazzo anzi, al contrario, ne è lieto. Voglio dire, più donne aveva più ne era orgoglioso. Questa è la verità. Al mio amato, il grande Luigi aspetta una lunga strada se vuole venire a trovarmi. Prima di tutto soddisfa scrupolosamente i doveri verso la regina è un marito coscienzioso. Dopo aver compiaciuto la regina, però il re vanifica il suo corretto operato in quanto getta nel totale sconforto la povera Louise perché per raggiungere la mia stanza deve per forza passare attraverso la sua. Madame? Sire? Che cosa ho fatto a vostra maestà? Perché mi imponete questo gioco? E perché mi negate di lasciare la vostra corte? Duchessa della Valier risparmiateci la scenata queste esibizioni sono riservate alla regina. Dopo aver attraversato la stanza di Louise potrà scoprire tra le mie braccia perché vale la pena essere re di Francia. Madame. Finalmente. se il lungo cammino verso di me è la misura della vostra passione sì, re allora persino la dea dell'amore dovrebbe essere gelosa della mia della mia fortuna. L'umiliazione subita da Madame de la Valier è resa evidente dal fatto che lei quasi regolarmente fuggiva da corte per rifugiarsi in un monastero ma la terza volta che lo fece non fu mandata a riprendere. quando fu definitivamente accolta nel monastero pare che abbia detto che qualora si fosse trovata male presso le carmelitane allora avrebbe ripensato a come era stata trattata a corte. Lei la visse come una profonda umiliazione e questo rivela uno dei tratti meno simpatici di Luigi XIV che mantenne un atteggiamento di totale indifferenza. Al re sono indifferenti anche i sentimenti dell'indignata regina Maria Teresa. Formalmente le mostra tutto il rispetto dovuto ma qualsiasi intromissione nei suoi affari personali per lei è tabù. Nella sua terra d'origine la Spagna le avevano detto che il re poteva innamorarsi solo di una principessa. Ci mise molto tempo a capire il modo pragmatico in cui i francesi usavano la parola amore. Maria Teresa di Spagna fu sposata per meri motivi politici per porre fine a una lunga guerra tra Spagna e Francia. Per tutta la sua vita parlò francese con un accento terribile. Era incapace di partecipare a una conversazione. non capiva ciò che le succedeva intorno. Così cominciò a passare sempre più tempo in compagnia delle domestiche spagnole oppure a pregare e a sorseggiare cioccolata con cannella. In poche parole viveva completamente ai margini della società di corte. Il rapporto di Luigi con le sue amanti era molto stretto. Durante le occasioni cerimoniali dovevano comparire tutte insieme. Un caso estremo era quando la corte doveva muoversi verso i campi di battaglia. Tutte le dame venivano condotte sul posto e in quella circostanza tutte e tre la Montespan la Valier e la Regina condividevano la stessa carrozza. Preferiamo non conoscere gli argomenti delle loro conversazioni. Il gioco a nascondino si protrasse per ben sette lunghi anni. Poi finalmente Louise de la Valier abbandonò le falsità della corte per la vita in monastero. Invece per la Montespan questo gioco è un elisir di lunga vita. Lei affascina e reco la sua carica erotica. Come Luigi lei fa tutto in grande stile quando mangia e beve durante il gioco d'azzardo e nella montagna di amore. Ma Madame de Montespan è sposata e suo marito non è disposto ad accettare questa relazione. Per riprendersi una volta per tutte la sua donna rischierà un conflitto aperto con il re. Monsieur de Montespan aveva la brutta abitudine di essere geloso e questo procurava solo scandalo. Alla fine lo dovettero mandare nel suo castello di Guasconia. dove pretese che i suoi servi non lo facessero entrare come di consueto dalla piccola porta del piano terreno ma dal portone principale per lasciare spazio alle sue corna. Viveva la gelosia in modo molto eccentrico anche se a corte si pensava che non fosse tanto disonorevole dividere la propria donna con il Dio Giove. la corte è costretta ad accettare l'adulterio. La Montespan rimane incinta del re. La gravidanza è considerata di solito come una specie di malattia nel mondo sfavillante dei balli di Versailles. Le altre donne si nascondono a lungo dinanzi alla società cortigiana ma non è così per la Montespan. con un lampo di genio camuffa il suo vestito da gestante come una nuova moda. Se non vi avessi già scelta madame lo farei in questo istante. Sire non vi scandalizza il mio aspetto? al punto che vi metterei in stato interessante. Mi viene difficile credere che lo siate già. Madame, siete una donna davvero meravigliosa. Vorrei presentare a vostra mesta una donna che potrà nascondere e crescere il frutto di questo stato interessante. questa persona è talmente brutta da doversi nascondere? questa donna diventerà famosa come madame come madame de mentenon è di bassa nobiltà suo padre è un assassino e lei stessa è stata partorita in carcere è vedova molto cattolica e molto riservata un'alleata ideale per la Montespan Madame de Montespan l'assunse come governante per i suoi figli tenendola in una posizione molto subordinata quindi era quasi impensabile per l'indiscussa favorita del re che questa oscura vedova potesse mai diventare una sua rivale l'aveva scelta proprio perché era una persona del tutto insignificante in una casa isolata situata ai confini della città di Parigi vengono cresciuti da Madame de Montenon in assoluta segretezza i figli del re della Montespan quando il marito della Montespan le concede il divorzio allora il re riconosce ufficialmente i suoi figli e li accoglie nella sua famiglia dichiarata misticamente di discendenza divina in modo particolare il primo figlio dei due il piccolo duca del Main viene amato dal re alla pari del suo successore al trono in totale la Montespan dona a re ben sette figli aveva una salute di ferro si invece portare in carrozza dietro l'armata nella campagna delle fiandre potete immaginare come fossero costruite le carrozze a quei tempi naturalmente con sospensioni poco avanzate dal punto di vista tecnologico e questo percorrendo le strade dell'epoca al nono mese di gravidanza il parto avvenne poi a courtré appena dietro la linea del fronte riuscì a superare tutto egregiamente tenere in piedi la facciata dello spirito e dell'eleganza è un'attività davvero logorante l'aspettativa di vita dei cortigiani è più bassa di quella dei contadini l'alimentazione poco salutare lo stile di vita ancora meno lo strapazzo fisico dovuto alle costanti cavalcate sia in battaglia che per la caccia non possono essere sottovalutate tutto ciò porta al fatto che le persone di cui stiamo parlando sono già consunte nonostante la relativa a giovane età Luigi XIV negli anni che noi definiremo i migliori già non aveva quasi più denti era stato sottoposto a terribili operazioni affinché la bocca gli potesse ancora funzionare in qualche modo di molte cortigiane che venivano descritte come bellezze si sa che avessero solo alcuni denti per non parlare dell'aspetto fisico rovinato da un'alimentazione sbagliata che comportava aderenze intestinali e deformazioni entrare nel letto del re è riuscito anche a donne con meno talento le difficoltà iniziano adesso io invecchio mentre le mie rivali sono sempre più giovani mi alzo alle cinque così che alle otto quando si sveglia il re ho un aspetto desiderabile Dio purtroppo non è galante altrimenti ci avrebbe dato le rughe sui piedi e non sul viso il duca del men si sta gravando dovrà curarsi l'occhio prima o poi è il re giusto? non gli posso impedire di cercarsi il divertimento con altre questa crema è buona procuratemene ancora finché le usa come delle giovani giovanche da possedere per poi non vederle mai più non mi interessa e la piccola mademoiselle de Nantes mangia troppo poco non so più cosa fare dovreste informare il re non mi danno ascolto che sfortuna ci vorrà un mese per avere un rimpiazzo per questo l'avete fatto apposta non è vero? io non sono la vostra governante non ne sono proprio in grado che razza di comportamento lo so mia cara fate di tutto per i miei bambini siete la mia sola alleata qui alla corte e ho potuto sempre contare su di voi oh mio dio non posso far aspettare il re tra le due donne si crea un rapporto di amore e odio il re manda il suo ministro della guerra da loro per farle riappacificare ma invano così se ne occupa di persona così commenta a proposito metterei più facilmente ad accordo tutta l'Europa che due donne non riesce né nell'uno né nell'altro intento quella di Luigi è un'epoca di guerre riduce la Spagna da potenza mondiale sulla quale non tramontava mai il sole a un semplice stato vassallo con mosse strategiche estende i confini della Francia dal Reno fino ai Pirenei combatte contro l'Olanda il suo più grande concorrente commerciale le atrocità dei suoi generali nel palatinato quando applicano la loro tattica della terra bruciata porterà i francesi ad essere definiti più crudeli dei turchi le vittorie militari si pagano a caro prezzo rovinano il paese e istigano l'odio dei nemici dall'altro lato in Francia il re viene ancora più divinizzato ma Luigi XIV è tormentato dai dubbi che però non riguardano la guerra ma le sue amanti comincia a scrivere le sue memorie imponendosi di mantenere separata la politica dal diletto personale il cuore di un sovrano è esposto ad attacchi come una fortezza una donna astuta metterà in cattiva luce l'una e screditerà l'altra affinché solo lei e i suoi amici possano essere ascoltati con benevolenza se non ci guardiamo da tali modi di agire ci attireremo la riprovazione di tutto il mondo solo per aver compiaciuto una donna dobbiamo restare padroni di noi stessi quando perdiamo il nostro cuore ma il re non si attiene alle proprie massime l'archivio nazionale di Parigi conserva preziose testimonianze private di Luigi XIV un raro documento una lettera redatta a mano mostra in modo eccezionale quanto incondizionatamente il re voglia piacere alla sua amante molte lettere sul comportamento delle sue amanti sono state distrutte in seguito ma questa è sopravvissuta nel tempo questa è una raccolta di lettere scritte da Luigi XIV nel bel mezzo della guerra la città di Dole in Borgogna viene assediata una settimana prima il re si muove nella trincea il suo grande scudiero viene colpito da una pallotta la nemica mentre gli è accanto e un pezzo del cranio del malcapitato colpisce a sua volta uno vicino a loro e lo ferisce gravemente il re viene spinto nel fango dal capo delle guardie così che le pallotte le gli passino sopra la testa è interessante notare le priorità inserite in questa lettera di sei pagine scritta il 9 giugno del 1674 nel bel mezzo della guerra da parte del re al ministro del tesoro le prime due pagine sono dedicate a come impiegare 40.000 lire per procurare distribuire pane alla milizia e così accelerare il corso della guerra gli altri due terzi della lettera le quattro pagine seguenti sono dedicate a come acquistare un portagioie da donare a Madame de Montespan e riempirlo con oggetti preziosi adeguati il tutto viene introdotto con parole eleganti nei confronti di Madame de Montespan ecco la frase Madame de Montespan non vuole assolutamente che le regali dei gioielli ma affinché non le manchi nulla desidero che prepariate un piccolo astuccio e lo riempiate con quanto vi elenco di seguito piccoli diamanti diamanti opachi deux pairs dépendant d'oreille due paia di orecchini rigorosamente di diamanti la lista dei gioielli arriva fino alla fine della lettera due pagine dopo alla Montespan non interessano solo i gioielli lei provvede alle sorelle e ai parenti con incarichi di alto rango e non teme di estromettere altre famiglie nobili è disposta a prendere delle lettere di richiesta da presentare al re in cambio di lauti compensi quando suo fratello diventa maresciallo le male lingue della corte diranno alcuni ottengono il bastone da maresciallo con la spada lui l'ha avuto con il fodero per la Montespan il re stesso fa costruire con somme ingenti un castello da fiaba a clagny di pari passo con questi successi però cresce anche il numero dei nemici e questi si vendicheranno al momento giusto il venerdì santo dell'anno 1675 madame de Montespan desiderava confessarsi dal prete della chiesa di Saint Germain quest'ultimo però le negò la soluzione perché lei era l'amante del re le si contestava di aver creato scandalo anche se si lamentò in alto loco non ottenne soddisfazione e il diniego rimase la chiesa cattolica non aveva mai perdonato alla Montespan e al re il doppio adulterio quando i predicatori di corte prendono coraggio e negano la soluzione non solo all'amante ma anche al re stesso lo scandalo è perfetto ora Luigi deve adeguarsi promette solennemente di cambiare le cose e allontana dalla corte la Montespan l'esultanza per la mia caduta è generale i ministri che mi ostacolavano ora gioiscono i predicatori di corte ora si aspettano un ritorno della morale tutti si affrettano a occupare cariche e ruoli dignitari che rimangono vacanti dopo la mia caduta persino quelli a cui ho fatto del bene ora parlano male di me non è solo una faccenda di relazioni private tra persone anche se politicamente rilevanti come Luigi XIV e nemmeno di vita privata che per il re è comunque un concetto precluso ma il punto è arrivare il più possibile vicini al re così da poter esercitare influenza su di lui è interessante notare come ad ogni amante fosse legata a una fazione politica per diverso tempo la Montespan non si avvede del fatto che la sua confidente Madame de Mentonon fa parte di una delle fazioni la Mentonon si è alleata con i predicatori di corte e addirittura con la regina stessa la governante sta diventando una pericolosa rivale Madame de Mentonon riuscì a ottenere la benevolenza del re grazie ai suoi figli lei amava quei bambini in particolar modo il primo il piccolo duca del Maine che soffriva di rachitismo e sembrava a un certo punto che non sarebbe più riuscito a camminare fu Madame de Mentonon che lo curò e lo accompagnò in un luogo di cura alla fine tornò trionfante alla corte perché il bambino riusciva nuovamente a camminare il re le fu infinitamente grato per questo re sole porta la guerra nel mondo re sole porta la guerra nel mondo che la fortuna accompagna i tuoi passi che il Dio Marte ti dia forza che i fulmini di Giove ti portino dritto alla giusta vittoria questo è mio figlio la vostra educazione è brillante siete stati da lei come sta Madame de Montespan la sta prendendo serenamente l'ho vista pregare arriveremo al punto che la regina impartirà lezioni sulla Bibbia alla Montespan sappiate che l'ho appena chiesto alla regina e anche lei è d'accordo cosa dite che succederebbe se un moschettiere iniziasse una relazione con la moglie di un altro unireste il moschettiere sbaglio dovresti usare lo stesso metro di misura maestà ne capite molto poco del cuore di un re anche un re ha delle debolezze se il re sta bene sta bene anche il suo popolo volete un mio consiglio? fate pace con la regina lei è così maldestra è l'amore che la rende così un amore non corrisposto fa male perdonate la mia franchezza Sire vi perdono la vostra gelosia era magra visto che non aveva avuto figli e possedeva uno strano fascino sembrava più matura della sua età una donna ragionevole equilibrata intelligente e piena di spirito i cortigiani cominciarono a chiamarla non più madame ma madame de maintenant ovvero la donna del presente la nuova questo portò a battibecchi con madame de montespan che si opponeva energicamente a questa situazione ci furono episodi piuttosto forti tra di loro e luigi quattordicesimo doveva ogni volta provvedere a ristabilire la pace visto che andavano per le lunghe ancora una volta madame de montespan la spunta su tutti i suoi avversari dopo un anno di esilio torna trionfalmente fra le braccia del re a dispetto delle proteste del clero ora lo sfarzo che si ostenta e le quantità d'oro con i quali il re abbellisce i suoi edifici non hanno precedenti ciò che costa maggiori energie alla montespan è difendere il suo posto accanto al re per non perdere la sua attrattiva erotica ricorre sempre più spesso a risorse artificiali elisir di bellezza non sono disponibili a Versailles ma solo a Parigi la metropoli contraddistinta dalla sporcizia e dal caos rappresenta un mondo cupo parallelo al teatro cortigiano di Versailles Parigi è la città natale della modernità ed è qui che in quegli anni matura una vera e propria industria del crimine si scoprono una dopo l'altra due grosse reti di assassini avvelenatori i quali tra l'altro sono anche organizzatori di messe nere chiaroveggenti si occupano di aborti eccetera viene alla luce quindi tutto un sottobosco criminale soprattutto grazie a una migliore organizzazione delle forze dell'ordine la polizia viene resa più efficiente anche a seguito del fatto che l'ultimo dei suoi capi era stato avvelenato dai suoi parenti il verificarsi di crimini di questo tipo nell'odiata Parigi lascia inizialmente indifferente il re ma le accuse raggiungono presto anche l'apparentemente serena Versailles un po' alla volta si scoprì che c'erano connessioni fino alla corte reale tutti correvano dalle chiaroveggenti per farsi predire il futuro e avere un aiuto per orientare le cose verso la direzione desiderata accanto ad artifici magici che servono a conquistare il cuore di una determinata persona spesso si celebrano anche messe nere la lista dei servizi facilmente disponibili a Parigi è lunga con pochi soldi si può ricorrere a metodi per l'interruzione della gravidanza o procurarsi la polvere di arsenico una commissione speciale della polizia alla Chambre Ardente indaga con tale accanimento contro i produttori di veleno e i loro clienti che addirittura principesse e marescialli su cui cadono dei sospetti devono fuggire dalla Francia durante uno degli interrogatori si fa anche il nome di Madame de Montespan si sospetta che abbia comprato una pozione magica per ottenere l'amore del re viene accusata di frequentare messe nere e addirittura di aver avvelenato una giovanissima damigella il re venne a conoscenza di queste accuse ne fu profondamente scosso e si diede una spiegazione delle strane emicranie che duravano settimane di cui aveva sofferto in passato le imputò ai disgustosi ingredienti della pozione d'amore che la Montespan gli aveva somministrato quindi decise che tutto ciò non dovesse mai essere rivelato chi fu ritenuto responsabile ma non aveva chiamato in causa la Montespan finì sulla forca mentre i suoi accusatori finirono rinchiusi senza subire alcun processo nelle celle più profonde delle fortezze reali per 30 o 40 anni in condizioni disumane nessuno sentì più parlare di loro nessuno ne doveva parlare Luigi XIV fece sparire tutti i documenti perché così era il re preferiva distruggere tutto ciò che non gli piaceva l'astro della Montespan è in un inevitabile tramonto Luigi XIV è stanco della sua amante cosa ci è successo? cosa è successo al re? non mi guarda più non guarda più nemmeno le cortigiane certo mi sembra chiaro lo splendore della corte è svanito ogni risata si spegne alla presenza di Madame de Menton proprio come vi avevo detto soltanto un colore regna nella corte ecco bene? il suo colore come sempre il nero sapete che cos'è che ammiro di più in voi Madame? non solo siete in grado di tenere dispute teologiche ma sapete convincere vero? e siete capaci di farlo in tono gradevole ecco Madame non potevate scegliere il momento migliore per sentire dalla mia stessa bocca l'onore che ho deciso di riservarvi sentivo che prima o poi sareste tornato in voi sire cara Marchese vostra maestà parlava di onore non di adulterio si tratta dell'onore più alto che è in mio potere concedere diventerete sovrintendente della casa della regina la contessa di Suasson vi ritiene più degna di lei in questo incarico Madame sì re come riuscirò a ringraziarvi ci riuscirete Luigi senza l'amore è un re senza sole pare che così dicano i miei cortigiani i miei sudditi si aspettano che abbia un amante favorita accanto a me i vostri sudditi voi che dite sire voi rimarrete al castello accanto a me vi verrò a trovare ogni giorno ma non crediate che saremo soli d'ora in poi ci vedremo soltanto dinanzi alla corte non vi aspettate nulla da me se non la cortesia dovrò avere il ruolo che prima mia cara nessuno conosce le regole del gioco meglio di voi perdonatemi ma non sopporto il vostro profumo mi fa venire il mal di testa non la cacciò dalla corte perché era la madre dei suoi figli non voleva scandali perché questo avrebbe avuto ripercussioni sui suoi figli quindi non vi fu alcun atto pubblico nei confronti di Madame de Montespan al di fuori del fatto che lui si allontanò da lei benché la Montespan ora abbia ottenuto un incarico di corte di altissimo livello dopo averlo desiderato per anni non cambia la sostanza che questa prestigiosa nomina è un vero e proprio regalo da Dio ora sta subendo lo stesso processo della sua precedente rivale Louise de la Valleire a corte si inscena la solita commedia solo che questa volta la vittima è la Montespan un'altra onorificenza provoca clamore in tutta la Francia Madame de Montanon una volta poverissima adesso è proprietaria di un suo castello il re la eleva a rango di Marchesa già da tempo è la sua più stretta confidente ma ora diventa anche la sua amante Luigi fino alla sua morte non dividerà il suo letto con nessun'altra donna ricoprire il ruolo di amante provoca dei forti sensi di colpa a Madame de Montanon si oppone al fatto di dover condurre una vita nel peccato che da sempre aveva criticato nel re quindi spinge il re a compiere un passo inimmaginabile da questa posizione favorevole Madame de Montanon riuscì nell'arco di soli tre anni ad arrivare al punto al quale non giunse mai nessun amante né prima né dopo ovvero contrarre il matrimonio con il re e quindi riuscire a passare dalla posizione incerta di un amante a quella eterna se vogliamo di moglie è la conquista più grande per un amante soprattutto se l'amante come nel caso della Mente Non partiva da presupposti davvero fragili la regina Maria Teresa muore nel 1683 Luigi sposa Madame de Montanon nello stesso anno il matrimonio viene celebrato in segreto alla presenza di Dio ma di nascosto agli uomini ai quali non può presentare sua moglie perché il re può sposare solo una principessa anche se può amare tutte le donne ma Luigi XIV è stanco delle conquiste erotiche è tormentato dagli scrupoli e dalla paura dell'inferno e del purgatorio la Mente Non rafforza questi sentimenti preghiere giornaliere nella cappella reale di Versailles prendono il posto delle feste e del divertimento di un tempo la generazione più giovane in particolar modo le figlie e le nipoti si sposarono ed ebbero figli tutti loro volevano godersi la vita desideravano avere una corte colorata e brillante e si trovarono di fronte al fatto che Luigi XIV e soprattutto Madame de Montanon erano diventati delle figure spente ed è normale considerato che Luigi XIV visse molto a lungo la fine del suo regno fu difficile un po' faticosa come lo è sempre quando si governa per molti anni mentre l'età avanza il re dimentica Madame de Montespan che per molti anni ha desiderato più di ogni altra donna questo per lei è peggio della morte dovete assistere ai matrimoni combinati per i suoi figli con gli esponenti di più alto rango della casata reale loro non avevano più niente a che fare con lei ma trattavano come la vera madre la sua rivale Mentnon la Montespan rimase in un appartamento a Versailles ma nel 1691 undici anni dopo l'affare dei veleni e otto anni dopo il matrimonio segreto del re con la Mentnon le fu detto che avrebbe dovuto lasciarlo e allontanarsi Madame de Montespan si ritira amareggiata in un monastero quando nel 1707 muore il re proibisce i suoi figli di portare il lutto per la loro madre Marlis Leroy qui Luigi XIV edificò il suo ultimo castello il più amato lì il re trova rifugio con pochi intimi e le amanti per sfuggire dai rituali soffocanti di Versailles oggi Marlis è solo un campo di rovine la rivoluzione francese concentrò il suo furore distruttore verso tutto ciò che anche lontanamente ricordava le amanti reali considerate la rovina del paese nella confusione della guerra anche l'incantevole castello della Montespan a Clagny viene raso al suolo i mobili vengono bruciati insieme alle sue lettere l'ultima amante dei re francesi Madame du Barry finisce nel 1793 sotto la ghigliottina con la sua morte inizia una nuova epoca l'età borghese inizia una nuova epoca inizia una nuova epoca a di arevano a 6 di and la infip